buongiorno allora ho deciso che voglio provare a fare il daily vlog per questa settimana non so quanto bene uscirà userò solo la gopro come in questo video e comincerò da oggi che è lunedì oggi praticamente io studio recitazione studio recitazione e arti marziali ovvero cioè è una recitazione nel campo dell'azione quindi facciamo stunt arti marziali cinesi e questa roba figa quindi secondo me è interessante anche perché la gente che vuole venire qua a studiare può vedere come effettivamente una scuola cinese più orari eccetera i miei compagni sono tutti cinesi sono l'unico straniero italiano l'unico italiano della mia scuola ed oggi è il mio giorno più libero comincio lezione all'una e finisco alle 4 e un quarto qui davanti l'orario e quindi adesso sono le 11 un paio d'ore vado a lezione la lezione di oggi non so come si dice in italiano perché in cinese si dice tizer in inglese si dice actor lines e in italiano qualcuno traduca e sono in camera questa è la mia cameretta e non ve la faccio vedere perché è un casino adesso prima la metto a posto ci vediamo lezione devo vedere perché non sta andando la vpn expressvpn muoviti ci vediamo lezioni ciao aspetta nel frattempo prima di andare a lezione vi faccio vedere perché poi non potrò parlare vi faccio vedere il libro quello che stiamo studiando adesso allora niente diciamo che reciteremo questa Schifffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffi Che dice態 advanezi att Impf arrival call Stina Palloso, bisogna... è una recitazione sofferta questa roba qui Ci vediamo dopo Ci sono 20 gradi, siamo a novembre Abbiamo parecchi campi da calcio, basket eccetera qui all'esterno Questo edificio di qua è in ristrutturazione da un anno praticamente E si, utilizzano l'ombrello perché non vogliono abbronzarsi Ci sono 20 gradi, io mi metterei in costume Qua si coprono Cosa, a bambino è l'opera Ci è un giro che era Ci sono alcune Sì c'è l'an kai what yeah yeah c'è ma so cool camera let me stay girl alex 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 l'an kai la il l'an kai il Damm l'an kai s'il il il l'an kai l'an kai il l'an kai l'an kai i l'an kai hello Grazie a tutti, grazie a tutti i nostri amici. C'è un po' di più. Ahahahah La mano a tutti i soldi per il gioco Che cosa ha fatto? Si è morto c'è una mamma che si è un po' ma mia mia amore e abbiamo visto in 2 anni ma che è un po' ma che è un po' ma che è un po' è un po' ma mia amore ma mia amore l'uomo l'uomo ti piace? C'è quello che ti piace? Mi piace Non... Mi piace 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 Finito Vado a mangiare qualcosa Comunque Non secondo me Siamo finiti di parlare Non secondo me Mi piace Enora Un po Uno 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 C'è un po' di acqua. ok ho finito ho comprato due sushi adesso sono le quattro e quattro sto mangiando qualcosa abbiamo fatto tre ore di lezione allora ho comprato questo che ha dentro uovo polpa di granchio e altra roba costa 10 in quell'aula lì facciamo due lezioni in pratica una è quella di oggi actors lines parlato e recitazione ah no facciamo anche musica musica è domani mattina la prima ora alle 8 sarà da ridere perché facciamo i versi e poi c'è gente che deve cantare anche io dovrei cantare ma non ho ancora scelto la canzone questo col tonno buonissimo so che per molti non è un granché per me è buono non vado in messa oggi perché non c'ho idea a messa magari domani faccio un video in messa costa pochissimo il cibo un cavolo proprio il riso qua è gratis praticamente nel senso che in cina il riso costa veramente pochissimo quello che costa di più qua di solito è la carne il pesce vabbè è normale sì ma anche le verdure costano di più una volta mi ricordo appena sono arrivato chiesi un piatto diciamo facciamo non so come definirlo un piatto di sole verdure e costava il doppio rispetto a un piatto quello stesso piatto con quelle stesse verdure ma in più il riso perché vabbè perché le verdure erano di meno però in realtà cambia molto questo invece è il secondo sono sei pezzi 406 calorie io calcolo tutto qua c'è non so se si vede la polpa di granchio come si dice in italiano come cazzo si dice in italiano c'è il trigolo è tipo l'uovo il rosso dell'uovo eccolo io lo amo questa robocano lo ha i miei compagni sono tutti i cinesi sono bravi li avete visti sono amichevoli che hanno visto che buono altro che marco toni questo è più buono è giallo c'è il riso proprio giallo giallo io lo amo questo sushi costa poco mi piace è fresco tutti i giorni arriva lì tutte le mattine sono l'unico che lo compra gli al cinesi non piace però preferiscono roba fritta saltata vanno molto con questa specie di piadina una specie di piadina c'è dentro un po di tutto non l'ho mai assaggiata non mi ispira è fatta su una piastra lì fuori che capito basta adesso finisco di mangiarmi questa robocca monto il video vado ancora ad allenarmi dopo probabilmente alla sera ho le prove di recitazione poi torno faccio la doccia e monto il video e lo pubblico quindi lo devo fare per cinque giorni di fila e oggi è il mio giorno più libero vado 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 ad allenarmi guarda qui oggi che t'schi l'essere meglio mi piace perci komen poca lì stag Ho finito il mio allenamento Adesso vado alle prove di recitazione Cosa? Si Is that us in the dark area? Yes Come on La prima cosa è che ciò che prende? Il partage Cosa che prende? Cosa che prende? Non... Cosa che prende? Tu ti prende? Tu ti prende? Non lo so. Cosa che prende? 3... 2... 1... Lo! È stato fatto, non lo so, non lo so. Ciao Grazie a tutti